Musica Abbiamo bomboniere per cerimonie, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, nozze d'oro, nozze d'argento, lauree, creazioni originali per ogni evento. Per ogni bomboniera la confezione è compresa nel prezzo. Queste sono le partecipazioni? Sì, queste sono le partecipazioni. Abbiamo il libro firme e tanti tipi di bomboniere. E per i testimoni? E per i testimoni abbiamo tante proposte. Musica Musica Musica